Abbiamo anche la contestazione, evviva! Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro. Noi non andremmo mai, mai, mai siamo andati a disturbare l'incontro tra qualcuno dei loro capi, dei loro leader e i loro elettori, perché noi siamo uomini e donne democratici e di libertà. Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà! Siete ancora e d'oggi come sempre dei poveri comunisti!